Si è svolto presso il circolo nautico di San Benedetto del Tronto un incontro organizzato da Piceno Promozione, azienda speciale della Camera di Commercio di Ascoli, nell'ambito del progetto Bridge, un'iniziativa che punta a mettere in contatto la Turchia con le realtà imprenditoriali dell'Unione Europea. Ascoltiamo And Guneikaya, presidente della Camera Marittima Turca. Siamo qui in rappresentanza della Camera Marittima Turca. La Camera Marittima Turca sta portando avanti un progetto chiamato Progetto Ponte, finanziato dall'Unione Europea, che ha l'obiettivo di creare dei ponti di consapevolezza tra le Camere di Commercio turche e le Camere di Commercio italiane. Siamo diversi partner, abbiamo dei partner in Croazia, in Italia, in Belgio e altre nazioni europee. L'obiettivo è duplice, da un lato vogliamo cercare di creare una maggiore comunicazione tra quelle che sono le Camere di Commercio nostre locali e le Camere di Commercio dei vari paesi europei e dall'altro l'obiettivo è anche quello di incrementare i rapporti commerciali tra le varie imprese nostre e vostre locali qua in Italia. Grazie a tutti.